Salve a tutti siamo qui con un nuovo video ed in questo video continueremo la serie sulla mod della vita reale ragazzi Nello scorso episodio ci siamo messi a vendere pizze in giro per lo santo se avevamo un motorino ragazzi Potevamo consegnare le pizze ai clienti affamati che è stato un bel lavoro ci è piaciuto abbastanza Non è stato perfetto perché come avete visto dovevamo correre da una parte all'altra eccetera eccetera Ma andatevi a vedere il video che è nella playlist qua sotto nella descrizione se volete Ma oggi faremo qualcosa di speciale perché oggi ragazzi io e Anna abbiamo costruito una cosa molto molto interessante Che vi faccio vedere a breve perché abbiamo intenzione di comprare una nuova macchina Ora forse vi state chiedendo ma come farai a comprare una nuova macchina soprattutto per il fatto che non ho più tantissimi soldi Vi ricordate abbiamo lavorato è passato del tempo poi siamo andati fuori città per qualche anno E adesso che siamo tornati di nuovo a Los Santos siamo rimasti con 30.000 dollari Allora con 30.000 dollari non possiamo comprarci quasi niente di bello Ma ragazzi abbiamo trovato un sito un sito web che ci permette alla concessionaria Alla nostra concessionaria di Los Santos preferita di fare degli acquisti praticamente Di comprare delle auto l'auto che vogliamo in leasing si chiama In pratica ci permette di pagare una quota mensile Dipende ovviamente dall'auto che vogliamo acquistare può essere alta o può essere bassa dipende In questo modo ammortizziamo molto le spese quindi paghiamo mensilmente l'auto Non ci dobbiamo preoccupare del suo prezzo iniziale perché sì è vero è meglio comprare l'auto subito Però dato che facciamo dei lavori particolari e dato che c'è questa possibilità Direi che è meglio prenderla in questo modo Cioè che non è del tutto nostra ma allo stesso tempo la possiamo usare per qualche anno Senza doverci preoccupare di sborsare una marea di soldi che adesso non abbiamo Comunque ragazzi tutto questo mega discorso per dirvi che oggi andremo a comprare una nuova auto Finalmente perché con Anna siamo stati ormai anni con la Mustang GT Ed è stata un'auto molto molto scomoda per entrambi Perché abbiamo Andreas adesso e quindi siamo in tre E una macchina con due posti comodi e due posti scomodi Di cui uno appunto è quello che guida non è che sia al massimo E quindi oggi andremo a comprare qualcos'altro ragazzi Ma vi faccio una sorpresa perché andremo a comprare una bellissima auto Forse eh non ne sono del tutto sicuro perché vedremo sarà la fortuna a decidere ragazzi Vi ricordate che abbiamo fatto tantissimi contest nelle scorse stagioni Su che auto prendere questa volta lascio decidere non a voi non a me alla fortuna E adesso vi faccio vedere che cosa ho costruito ragazzi Andiamo in garage che è lì che l'ho costruito Anna se vuoi preparati che così usciamo che dobbiamo portare questa cosa qua Questo segreto qua alla concessionaria perché poi faremo lì test drive Vedremo l'auto che verrà scelta appunto Comunque usciamo da qui usciamo dalla porta Ragazzi eccola qua Quindi questa è la ruota della fortuna delle auto La nostra prossima auto verrà scelta così È incredibile ragazzi Devo ringraziare uno di voi Si chiama Don Atello Vedete il commento qua Che mi ha chiesto proprio di fare un'estrazione con una ruota della fortuna Che ragazzi è la cosa più difficile vi garantisco che ho fatto finora nella vita reale È davvero la più difficile Cioè mettere una ruota della fortuna dentro GTA In questo modo per me è stato davvero davvero complicato Ma comunque ce l'abbiamo finalmente davanti Sarà un po' dura trasportarla Soprattutto dato che la nostra macchina è questa Che è praticamente più piccola della ruota della fortuna Che ore sono? Comunque sono le 10 e 19 Guardate Non so se l'avete notato però ho l'iPhone Abbiamo cambiato telefono Non so se ve l'avevo detto in un episodio della vita reale Comunque in ogni caso Guardate ragazzi Quindi queste sono le 6 auto che abbiamo inserito Io e Anna dopo averle scelte con voi E con tantissime altre decisioni personali Che avremmo voluto Quindi ci sono delle macchine incredibili Qualche macchina un po' meno incredibile Anzi solamente una un po' meno incredibile Perché ragazzi abbiamo una Ferrari 812 Superfest Che l'abbiamo vista al concessionario Una Mercedes C63S È veramente una figata Una Corvette ragazzi Che sembra che costi meno delle altre Ma in realtà non è vero Perché è una apparentemente Z06 E costa davvero tanto Sono rimasto sorpreso Poi una Lamborghini Huracan E so che ragazzi Sia la Ferrari che la Lamborghini Huracan Sono auto che avete sempre chiesto E che forse dipenderà dalla fortuna ovviamente Ma forse riusciremo ad avere E poi l'Alfa Romeo Stelvio Inoltre per renderla un po' più competitiva Abbiamo messo una Fiat Panda ragazzi La Fiat Panda degli anni 90 La Fiat Panda degli inizi 2000 Il vero pandino ragazzi Che ci porta ovunque E possiamo anche starci in tre sinceramente Quindi vedremo quale auto di queste ci capita Ovviamente la Fiat Panda Non la prenderemo in leasing come vi ho detto Ma la prenderemo proprio L'acquisteremo se capita quella Quindi detto ciò La fortuna deciderà la nostra prossima auto ragazzi Le probabilità sono a favore di una bella auto Però non si sa mai quello che ci potrebbe capitare E ragazzi sarà una sorpresa Quindi direi che prendiamo tutto questo marking genio Che è abbastanza complicato Guardate l'abbiamo costruito da un tavolo praticamente Lo abbiamo ripitturato Abbiamo preso una specie di stand per una lampada Una cosa particolare E poi abbiamo messo questa Abbiamo stampato e messo questa enorme immagine Sulla ruota E quindi l'abbiamo creata un po' così Gira ovviamente Gira Dopo la vedrete in azione Ora come portarla al concessionario Ragazzi non chiedetemelo Penso che la proverò a fissare sul tetto Ma non so se sarà una cosa possibile Proviamoci comunque Ah per chi se lo stesse chiedendo Andreas è a scuola ovviamente Perché naturalmente oggi deve andare a scuola È naturale Noi invece con il lavoro stiamo andando abbastanza bene Anche se abbiamo saltato un giorno E non è stato un granché E non è piaciuto molto al mio capo Ma in ogni caso ragazzi Prendiamolo Cerchiamo di metterlo sul tetto della Mustang Ok ragazzi abbiamo fatto So che me lo state per chiedere Ma credo di no Che non sia legale Però comunque finché non ci fermano Penso che Cioè poi sarà dura spiegargli Alle poliziotti Ma in ogni caso Saliamo sopra la macchina Anna sali anche tu Anna Anna Ehi Anna sali Vai sali Che cavolo stai facendo Anna Ehi dai dai Non perdiamo tempo oggi eh Che abbiamo un sacco di cose da fare Vai Anna Anna Che diamine Ma che ne so ragazzi Io non le capisco Oh brava Anna Bene Ok ragazzi Quindi siete contenti Di quello che stiamo facendo Perché finalmente avremo un'altra auto Oltre la Mustang GT Perché non voglio separarmi dalla Mustang C'è stata molto molto utile È un'auto veramente fantastica Il problema è che non c'è molto spazio Quindi forse lo Stelvio sarebbe La scelta migliore Perché è quello che costa di meno Rispetto agli altri Ed è quello che sicuramente Diamine Si sente il peso Della 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 ruota della fortuna di sopra ragazzi Ok stiamoci un po' attenti Che non vorrei anche attirare l'attenzione Magari dei poliziotti O altra gente Che Ok Attenzione quando freniamo Bene è legato abbastanza bene Siamo quasi per arrivare ragazzi Dato che so che non vi piacciono i tragitti Ci vediamo una volta che siamo arrivati Sperando che nessun poliziotto mi fermi Ed eccoci qua ragazzi Siamo arrivati Bene Ah ovviamente è stato informato Il tizio della concessionaria Su questa ruota della fortuna Quindi sa che cosa stiamo per fare Ma direi che la facciamo Scendere dal tetto della macchina Anche perché non so quanto sicuro sia E lo mettiamo magari qua dentro Sì penso che dentro la concessionaria Non sarebbe troppo male Facciamo così Anna Dai aiutami un attimo A far scendere questo Ragazzi ci vediamo Appena lo abbiamo messo dentro Direi perché sì Sarà un po' pesante Un po' dura da fare Bene fatto ragazzi Abbiamo fatto Ora voglio vedere un attimo Se è chiusa la macchina correttamente Sì adesso sì Perfetto Pesavo paura di averla lasciata accesa Vieni Anna Che abbiamo sistemato La ruota della fortuna All'interno del concessionario Ed eccolo qua ragazzi Guardate che figata Come vedete questo è il venditore Quello che si occuperà Di farci testare le auto E tutto quanto Hanno chiamato un'altra persona Questa volta come vedete In giacca e cravatta Cioè proprio Sarà divertente se uscirà fuori La Fiat Panda Ma comunque ragazzi Anna sei pronta Per far scegliere Alla fortuna Una macchina Che ne dici Allora ragazzi Voi prima di iniziare Che auto vorreste Da questa lista qua Fatemelo sapere Nei commenti qua sotto Scrivete Prima che la ruota della fortuna Decida Una macchina Un'auto Come funzionerà Beh in pratica Noi la faremo Un paio di volte Cioè non è la prima volta Che gireremo la ruota Compreremo quell'auto Se esce fuori Un'auto due volte Quindi la stessa auto Due volte Quella sarà l'auto Che dovremo comprare Ragazzi Quindi speriamo Che escano auto diverse Così le posso testare Tutte quante Al massimo Però se esce due volte La stessa auto Allora è destino E quella Dobbiamo acquistare Quindi è tutto chiaro Le regole sono tutte chiare Per entrambi voi due Sì anche per voi ragazzi Tutto chiaro Bene Quindi se avete scritto L'auto che vorreste Da questa lista Qua sotto Nei commenti Siamo pronti Per partire Allora L'unica cosa che possiamo fare Ragazzi è avvicinarci Alla ruota della fortuna Così da girarla Ok Vedete che c'è in alto A sinistra Una scritta Premi Freccia destra Per girare Quindi la gireremo Vedremo come va E ragazzi Beh sarà divertente Vedere che cosa succede Ok ragazzi Quindi benvenuti Alla ruota della fortuna In cui andremo a scegliere La prossima auto per Franklin Clinton Primo e unico concorrente Di questa edizione Della ruota della fortuna Quindi come vedete Alla mia sinistra Abbiamo una marea Di supercar E anche qualche auto interessante Che potrebbero essere Il prossimo veicolo Della famiglia Clinton Quindi Signore e signori Quale auto Andremo a provare Per prima È ora di girare la ruota Ok sta girando Oh mio dio Ok iniziata abbastanza veloce Quindi ci mette un po' più di tempo Perfetto E la prima auto Che andremo a testare È La Corvette ragazzi La prima auto È la Corvette Z06 E cavolo Volevo tantissimo Testare quest'auto Adesso ragazzi Usciamo dal gioco E andiamo a provarla Andiamo a fare il primo test E vediamo come va Guardate c'è la gente Che sta guardando Che diamine sta succedendo qua Perché c'è un gioco di ruolo Tipo uno show Ma ok andiamo dalla signorina qua dietro Alla reception E chiediamo di provare Niente meno che la Corvette Probabilmente forse Una delle auto Che sembrano più noiose Della lista Ma in realtà Non lo è per niente E adesso vedete perché È questa Chevrolet Corvette Stingray C7 96.000 dollari Che bellezza Ok come vedete È decapottabile Non interamente Ma una parte È completamente verde Questa scelta È un po' strana Gli interni sono molto molto belli Anche se ovviamente Cambierei il colore Colori classici Ovviamente lo facciamo nero O anche di altri colori Va bene Ma per ora nero È fantastico ragazzi E io direi che facciamo Niente meno che un test drive L'auto così com'è Senza l'upgrade Ok Guardate che figata Allora come vedete Quest'auto è decisa Ah se vuoi salire anche tu Anna Sì sì Beh sali anche tu Meglio Vieni su che così Provi anche tu l'auto Che così vedi com'è Quindi abbiamo messo questa nella lista Perché beh Non ci sono i sedili dietro Quindi sarebbe un po' scomodo E però c'è abbastanza spazio Di dietro vedete Anche se lì ci andrebbe Il pannello del tettuccio Che come vedete È completamente aperto Ma è un'esperienza Tutta sua Non so se lo vedete Ma c'è anche Il contachilometri Olografico L'HUD si chiama E abbiamo anche Un paio di altre cose Vedete che è tutto Perfettamente funzionante E animato Vedete il contagiri Il contachilometri Eccetera eccetera E poi direi che Di design Beh mi piace parecchio Non so ragazzi voi Ma quest'auto di design Mi piace parecchio Ora possiamo andare Vediamo Mettiamo la freccia Vediamo Oggi è veramente Trafficata la città Nell'ultimo episodio ragazzi Non c'era quasi nessuno in giro Oggi invece è davvero Davvero trafficata Quindi Voglio sapere ragazzi Le vostre opinioni Qua sotto Nei commenti Ma D'altronde Non siete neanche voi E neanche io Che scelgo l'auto È solamente la fortuna Quindi facciamo Un'accelerata Me l'immaginavo Molto più veloce Di quello che è Guardate io accelero al massimo Fa pochissimo Ok probabilmente Con le giuste modifiche Poi andrà decisamente di più Ma Non so se sto sbagliando io qualcosa Forse perché sono in In comfort E non ho messo la modalità sport Però Comunque vedete Quattro scarichi Posteriori Centrali Decisamente è una bellissima auto Torniamo sopra Guardate comunque La pubblicità Della gamma tipo Cioè ragazzi Perché lo sapete benissimo Abbiamo unito La Grand Theft Italy Naturalmente Con La vita reale Quindi adesso abbiamo Tutto italiano E come vedete Qua c'è una Pubblicità della Fiat Fiat uno stile Piacevole Ed elegante Ok vabbè Pazienza In ogni caso ragazzi Terminiamo il test drive Ok quindi Benvenuti di nuovo A questa edizione Della ruota Della fortuna Abbiamo appena Testato La Corvette Z06 Non è stato Quello che ci aspettavamo Quindi adesso Gireremo di nuovo La ruota E vediamo Quale altra auto Uscirà fuori Ok abbiamo girato La ruota Sta girando Gira 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 Vediamo che Supercar O auto normale Uscirà fuori E la prossima Da testare Sarà Niente meno Signori Che La Mercedes C63S Woo Si era un'auto Che volevo testare Ragazzi Perché secondo me È comoda Al pari Dello Stelvio Forse non così grande Ma comunque Adesso andiamo Dalla tizia Alla reception E proviamo Anche quella Quindi come vedete Anche qua Tutto funzionante Abbiamo il contachilometri Contagiri Abbiamo un paio di schermi Decisamente dentro È molto molto lussuoso E si sta da dio Guardate gli specchietti Ad esempio quello centrale Dice veramente Quello che c'è dietro di noi Vedo la pubblicità Della Fiat da qua Poi abbiamo Beh ovviamente Il sistema Audio Plus I controlli Per i sedili E una marea di altre Novità E cose Che sono molto Molto Interessanti Non abbiamo purtroppo Il tettuccio panoramico Sembra Pazienza Comunque vedete Abbiamo dei led Posteriori E anteriori Mi piacciono tantissimo Queste auto Ragazzi Quindi ovviamente Sono un po' Di parte Ma dato che oggi Non scelgo io Posso essere di parte Quanto voglio Accelerazione Beh decisamente migliore Della Dell'auto Che abbiamo testato prima Forse perché sono sempre In comfort Ma non sento scoppiettare Non sento il rumore Che mi aspetto Da quest'auto Ma in ogni caso Anche questo è molto interessante Forse ragazzi Per la comodità Dei quattro posti Preferirei quest'auto A quella che mi hanno testato prima Voi invece Che cosa ne pensate Preferite quest'auto O quella di prima Guardate abbiamo I freni gialli In carbon ceramica E poi abbiamo anche Beh dei dettagli Color Non so che cosa siano Rosa Pesca Non ho ne idea Comunque tutto Penso customizzabile Cambiabile Poi vediamo Usciamo dal test drive E direi che torniamo di nuovo Alla nostra bellissima Ruota della fortuna Bene ragazzi Rieccoci qua Ad un'altra girata Della ruota della fortuna Quindi siamo sempre in compagnia Del nostro venditore preferito Che non fa assolutamente Una ceppa di niente Ma noi Andremo a rigirare Di nuovo questa ruota Per vedere Se capita O la mercedes c63s O la corvette z06 Che andremo ad acquistare In quel caso O se no Un'altra auto Che andremo a testare Io spero che esca La lamborghini Ma non vorrei sbagliarmi Ok bene L'abbiamo avviata Sta girando Vediamo su che auto Andrà a posarsi Finalmente Questa volta Il perno centrale Sembrerebbe essere La 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 panda No No Speravo la lamborghini Ragazzi E invece La panda Ok beh sarà interessante Anche questo Era una cosa che volevo Fare anche questa Sono uscite tre auto Diverse Ancora non un'auto Uguale Ma va bene Va bene così Usciamo da Usciamo dallo show E vediamo di testare La panda Oh diamine Speriamo non esca due volte Ora ragazzi Se dovesse uscire La panda Beh sarebbe decisamente Una scelta Sicuramente economica Ora Vedete che abbiamo Il vecchio logo fiat Una targa Beh decisamente Prima dell'euro E abbiamo anche I fanali anteriori verdi Questa è una scelta Molto strana Quest'auto è naturalmente usata Non se ne trovano più di nuove Come ovvio che sia E poi abbiamo La scritta panda 75 Vedete Dietro La visibilità è decisamente Ottima Probabilmente migliore Di tutte le altre Che ci sono finora E niente Direi che La testiamo Anche questa Che ne dite Facciamo il test drive Come vedete Gli interni Sono decisamente Decisamente Basilari ed economici E niente Non so neanche se All'aria condizionata E la radio La radio non la vedo Quindi boh L'aria condizionata Ed eccoci qua ragazzi Come vedete Beh Uh diamine Le luci sono verdi È vero E sali Sali Anna Ok Beh come ti sembra Quest'auto Eh beh tu sei felice In ogni caso Apparentemente Bene meglio Perché Non lo so Oddio Anche le luci posteriore Sono verdi Non ho idea Del perché Però Ok Bene Allora Vediamo un attimo Mettiamo la freccia La freccia Funziona Che non è una cosa Assolutamente Da sottovalutare E vediamo L'accelerazione Ok beh Quello che è Però Uh Non so Non so Se la sentite Quella che fa più rumore Di tutte Quelle che abbiamo testato Finora Sentite Aspettate Adesso Andiamo a destra Che si può anche Col rosso In questo paese E guardate un attimo Sentite Oh mio dio Come urla Che figata Come urla Signori Un attimo Che Ok facciamo passare No il pedone Non vuole passare Guardate Abbiamo una cosa divertentissima Il volante Che ha Al centro La riga Quella Come se fossimo In una gara Praticamente Ma non lo siamo E vabbè Come se fossimo In un'auto Tipo da 800 cavalli Ma ok Dato che il test drive Si deve fare Un po' più interessante Voglio provare Ad andare nel cantiere E vediamo Come se la cava In un cantiere Ok Ah no Ci fa uscire dall'aria Peccato Non possiamo fare Il test drive Così lontano Vabbè Bene Ottimo Rieccoci qua Scusate dell'interruzione Direi che possiamo Girare la ruota Della fortuna Vediamo un attimo Quale sarà La prossima auto Che andremo a testare E vediamo un po' Avviamola Benissimo Vediamo un attimo Sta girando Gira 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 Questa volta Gli abbiamo dato Una bel po' di forza E l'auto Che andremo a scegliere Sarà La Ferrari Oh cacchio Finalmente un'auto seria Ferrari 812 Super fast Oh Non vedo l'ora di provarla Ragazzi È incredibile Che finora Non è ancora uscita Un'auto Uguale all'altra Andiamo rosso 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 Dov'è il rosso Eccoli qua Tutti i rossi Rosso formula È rosso perfetto Per una Ferrari Quindi le volte Che abbiamo provato Una Ferrari Si contano Probabilmente Sulle dita di una mano Wow Se è un gioiello Quest'auto Guardate ragazzi Gli interni Guardate il Conta chilometri Guardate il Contagiri Guardate Le lucette Che ci dicono Quando dobbiamo Cambiare Funzionano gli specchietti Funziona tutto È tutto Perfettamente Perfetto Guardate che figata Sembra che manchi La targa posteriore Probabilmente non è ancora stata targata Quest'auto Non so se È un problema Vabbè Penso che si potrà mettere sopra Non ne ho idea Penso di sì Direi che Wow Questa è un'auto Che si vede Che è un'auto seria Ragazzi Guardate Direi che Questa accelera Decisamente più Delle altre E fa anche un bellissimo rumore Diamine Abbiamo già fatto il giro dell'isolato Praticamente È davvero veloce Quindi c'è sempre quella paura Magari di andarla a sbattere Guardate che auto abbiamo davanti a noi E queste sono le due auto Che sono nella lista Ragazzi Potrebbe capitarci una delle due Dato che abbiamo fatto il test Di tutti e due E chissà quale ci capiterà Speriamo quella giusta Ragazzi Ma in ogni caso Adesso ragazzi Le probabilità che arrivi un'altra auto Sono Penso pressoché minime Quindi per ora Non sono mai uscite Alfa Romeo Stelvio E Lamborghini Huracan Quindi vedo queste due auto Abbastanza difficili Da comprare ormai Perché a meno che non esca due volte La stessa auto da ora Probabilmente uscirà un'altra auto ancora E non lo so Vedremo qual è Voglio sapere da voi ragazzi Qual è l'auto Che secondo voi uscirà adesso Quindi signori Se volete una considerazione Da me E probabilmente anche da Anna Noi speriamo che esca La Mercedes O la Corvette Ebbene signori Per questa Scusa Anna Anna Sei bella Ma non sei invisibile Anna Riesci un attimo Stavamo dicendo Probabilmente questa è l'ultima Delle volte che proviamo Ed è proprio per questo motivo Che ho preso il microfono Perché voglio dare il Big annuncio Giriamo la ruota Ragazzi Per l'ultima volta E Giriamo Ok Bene Quindi sta girando la ruota Questa sarà l'ultima volta O uscirà un'auto Che non abbiamo ancora provato Lo scopriremo Dopo la pubblicità No scherzo Non c'è nessuna pubblicità Quindi Sta ancora girando Un attimo ragazzi È perché Sarà tra breve Che scopriremo Quale sarà l'auto Che compreremo Ebbene signori Si sta rallentando La cosa si sta facendo Molto più interessante L'auto che andremo a comprare Signori e signori Anna è No 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 Secondo me è truccato È truccato dal tizio laggiù Non è possibile È uscita la Ferrari 812 super fast Cioè è bellissima Per carità Ma ragazzi Usciamo da questo show Ragazzi E Caspita Non so se ti rendi conto Di quello che sta succedendo Non so se ti rendi conto Che stiamo per comprare Una Ferrari Cioè non so se ti rendi conto Che stiamo per spendere Ogni mese Dei soldi per una Ferrari Cioè sei stata tu Quella che l'ha voluta Mettere lì nella lista Io non avrei mai Messo una Ferrari Nella lista Tu hai voluto mettere Quella nella lista E adesso ci troviamo In questo casino Con quello che costa al mese Possiamo andare avanti Anche per un anno E poi guadagneremo Altri soldi Però Anna Non è la scelta migliore Poi ha due posti soli Ricominciamo da capo Con il problema Dello spazio Apparentemente È uscita fuori la Ferrari Un'auto che io non avrei scelto Cosa avrei scelto io? Lo Stelvio Ma comunque Dato che non siamo qua A fare quello Che avrei scelto io Ma il gioco è proprio questo Oh la signorina È tornata dalla pausa a caffè Finalmente signorina Non ci tocca Che comprare una Ferrari Odiamene Salve signorina Sì non faccia quella faccia Perché anche Ah è tutta tatuata Guardate che roba Sì sono qui Per vedere un veicolo Ah sì Una Ferrari Sì ha vinto quella Nella ruota La più costosa E te pareva E niente quindi Va bene 415.000 dollari Gli interni Beh sono di un colore Che ci sta secondo me Perché sono interni Ferrarosi Diciamo Le Ferrari hanno sempre Questi interni qua Quindi Perfetto Facciamo già l'upgrade Del veicolo Ok Ragazzi Abbiamo messo la targa Abbiamo tutto Oh mio Dio L'auto è nostra Oh caspita Ok Wow Ok l'upgrade Si vede La targa che ci è capitata È 445 5000 Apparentemente Non sapevo neanche fosse possibile Ma era apparentemente Uh targata così Uh A bollo e tutto quanto Incluso nella rata mensile Che andremo a pagare Quindi La cosa è buona Penso anche se Quando arriverà la rata Sarà una vera e propria Stancata Immagino Ma La ruota della fortuna Ha detto ciò L'abbiamo lasciata al concessionario Dovesse servire di nuovo a loro A noi di certo non serve più Ci è andata male Diciamo Forse qualcuno di voi ragazzi È contento Non lo so Ma io sinceramente Non tantissimo Ho lasciato che Anna La mettesse nella ruota Giusto perché Beh per farle un favore Poi ho detto Mica uscirà la Ferrari E invece È uscita proprio la Ferrari Quindi Io direi che adesso Andiamo a berci un caffè Qua vicino ragazzi E terminiamo qua L'episodio Perché beh È stata una giornata Abbastanza lunga Beh ancora Siamo a metà giornata Che ore sono Eh sono le 11.49 Ancora abbiamo fatto abbastanza presto Però ragazzi Dov'è il caffè Un attimo Che mi sono dimenticato Ok è lì Cerchiamo di parcheggiarla Senza graffiare un cerchione Anche perché Non so cosa succede Se è incidento un'auto Che non è mia Praticamente Ma la gente è decisamente contenta Ci fanno le foto Guardate tutti che guardano l'auto Ovviamente Ma con quello che la pago ogni mese A questo punto Ma per noi ragazzi Io direi che terminiamo qua Quindi grazie a tutti Della visione Mi raccomando Lasciate un like Se questo video vi è piaciuto Iscrivetevi per nuovi video Sulla vita reale E anche su altre cose ragazzi Ho ascoltato i vostri consigli Che mi avete dato Nella tab community Se avete qualche idea Per qualche video Che volete che io porti Andate in community Sul mio canale E lì vedrete E potrete interagire Rispondere E aggiungere anche La vostra opinione In descrizione c'è il link Per seguirmi su Instagram Se non oggi Domani Ci sarà il giveaway Della Playstation 4 Pro Quindi siete ancora in tempo Per seguirmi Ma per poco Perché appunto Sceglierò la persona Che avrà vinto La Playstation 4 Pro E sarà una cosa Abbastanza importante Quindi andate lì E guardate ragazzi Detto ciò Controllate la descrizione Di questo video E niente Grazie a tutti Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti